Benvenuti ragazzi a questa nuova lezione di storia. Vi siete iscritti al canale? Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito e cliccate sulla campanella. Rimarrete sempre aggiornati. Oggi approfondiremo la conoscenza dell'Islam. Partiamo dalla conoscenza del Corano. Che cos'è il Corano? Il Corano è il libro sacro dell'Islam. Maometto tramandò a voce le parole dell'Arcangelo Gabriele perché non sapeva né leggere né scrivere. Mentre era ancora in vita, però, queste vennero raccolte e messe per iscritto nel Corano, che in arabo significa lettura ad alta voce. Il Corano contiene quindi tutti i principi fondamentali della religione islamica. Per i musulmani, il Corano è l'ultimo dei libri che, dopo l'Antico Testamento degli Ebrei e il Vangelo dei Cristiani, contiene la versione ultima della volontà di Dio. I musulmani sono i credenti nell'Islam, i fedeli che si abbandonano a Dio. Muslim, infatti, significa sottomesso a Dio. I capitoli del Corano si chiamano Sure. Importante, testo sacro dell'Islam insieme al Corano, è anche la Sunna, tradizione, cioè l'insieme delle cose dette da Maometto quando era in vita e tramandate di generazione in generazione. Ogni musulmano deve dunque sottomettersi alla volontà di Allah, onorarlo e osservare cinque precetti fondamentali, chiamati anche i pilastri dell'Islam. Vediamo in che cosa consistono. Primo precetto, la testimonianza di fede. Ognuno deve credere in Allah e recitare con convinzione non c'è altro Dio al di fuori di Allah e Maometto, il suo profeta. Secondo precetto, la preghiera rituale. La preghiera di rito da recitare cinque volte al giorno con lo sguardo rivolto verso la città santa della Mecca. Terzo precetto, l'elemosina legale, cioè l'obbligo di versare una parte dei propri guadagni, calcolata in base alla ricchezza posseduta, per sostenere i bisogni dell'intera comunità. Quarto precetto è il digiuno durante il mese del Ramadan, il ricordo della rivelazione dell'Arcangelo Gabriele a Maometto. Il Ramadan è il nono mese del calendario islamico e cade ogni anno in una stagione diversa. Il digiuno dura dall'alba al tramonto. Il quinto precetto è il pellegrinaggio alla Mecca, da compiere almeno una volta nella vita, avendone la possibilità. Ma il Corano non è solo un testo che contiene regole religiose per i fedeli. È anche la guida delle loro azioni. Per questo nel Corano sono scritte anche le regole di comportamento che ogni buon musulmano deve seguire. Le regole alimentari, ad esempio non mangiare carne di maiale e non bere bevande come l'alcol che impediscono di pregare. Regole morali, come curare i malati. Ma ci sono anche norme di comportamento più generali. È assolutamente proibito adorare gli idoli. Perciò nei luoghi di preghiera è vietato raffigurare con immagini uomini e animali, per non rischiare di adorarli come divinità. Il buon musulmano deve fare ogni sforzo per piacere ad Allah e meritarsi il paradiso. Questo impegno, nel Corano, si chiama jihad, che vuol dire fare il massimo sforzo. Applicato nella vita di tutti i giorni, significa sia sforzarsi di resistere alle tentazioni, sia impegnarsi e combattere per difendere, anche con le armi, l'Islam. Per questa ragione, spesso si parla di jihad come di guerra santa. Dove pregano i musulmani? Il luogo di preghiera dei musulmani è la moschea, l'edificio sacro, dove pregare insieme. Moschea significa luogo dove ci si prostra, ci si inchina fino a terra. La prima moschea fu la casa di Maometto, a Medina. Tutte le moschee, proprio come quella casa, hanno pianta rettangolare, con un porticato intorno e una fontana al centro. La guida spirituale della comunità si chiama imam, è il lettore del testo sacro. A differenza dell'ebraismo e del cristianesimo, l'Islam, infatti, non ha sacerdoti. Il giorno sacro dell'Islam è il venerdì, giorno di preghiera. L'Iman guida la preghiera, pronuncia un discorso solenne, il sermone, che non è solo un commento a un passo del Corano, ma anche a fatti e questioni di attualità. La moschea è anche un luogo di ritrovo per scopi sociali, culturali e politici. Può essere usata come sala per le assemblee oppure come aula di tribunale, dove svolgere processi. I fedeli, prima di entrare nella moschea, devono levarsi le scarpe. Osserviamo le diverse parti di cui si struttura la moschea. Il minareto, eccolo, una torre alta e sottile, da dove il muezzin chiama i fedeli alla preghiera. La vasca delle abluzioni, ossia dei lavaggi. Prima di pregare, i musulmani si lavano, perché non si può essere puliti dentro, nel cuore, senza essere anche puliti fuori, nel corpo. Ogni moschea, poi, ha una grande corte interna. Altre parti importanti sono il minbar, posto dove l'imam sale a predicare, e ancora il mirab, la nicchia che mostra i fedeli in quale direzione pregare. Le donne pregano separate dagli uomini. Sul minareto, il muezzin, chiama con un particolare canto i musulmani alla preghiera cinque volte al giorno. Proviamo ora a mettere a confronto l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. Prendi il tuo quaderno e preparati a rispondere. Chi è il fondatore dell'ebraismo? Abramo e del cristianesimo Gesù, lo ricordi? Ora hai imparato anche chi è il fondatore dell'islam. Sì, è proprio Maometto. Qual è il simbolo o i simboli di ognuna di queste religioni? Per l'ebraismo la stella di David e il candelabro ha sette bracci. E per il cristianesimo? Hai risposto sul tuo quaderno? Sì, la croce su cui è morto Gesù. E per l'islam? La mezzaluna e la stella nascente. Osserviamo attentamente questi simboli. Stella di David e candelabro a sette bracci per l'ebraismo. La croce di Gesù per il cristianesimo. La mezzaluna e la stella nascente per l'islam. E il libro sacro? Per l'ebraismo è la Bibbia ebraica, l'Antico Testamento. Per il cristianesimo? La Bibbia cristiana formata dall'Antico Testamento più il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento comprende i Vangeli. E per l'islam? Sì, l'ha imparato. È il Corano. Dove pregano i fedeli? Gli ebrei pregano nella sinagoga. E i cristiani? Certo, nella chiesa. I musulmani? Nella moschea. Bravissimi! Arrivederci, ragazzi. Alla prossima lezione. Non dimenticate il like. A presto!